E via, continuiamo a rompere le scatole anche stasera, di cosa ci occupiamo, intanto saluto gli ospiti che ridono ogni volta quando butto giù uno scatolone, allora Alessandro Sorte di Forza Italia, buonasera a tutti, Ivan Rota dell'Italia dei Valori, buonasera, buonasera mi piace quando la gente butta giù i muri, bravo Poletti, apra ponti, è nel suo carattere. E certo, stasera poi ne apriremo tanti di ponti perché parliamo proprio di immigrazione tra gli altri temi. Tiziano Mariani, imprenditore, buonasera a tutti, e dalla redazione di Libero saluto il direttore Pietro Senaldi, ben ritrovato, buonasera Pietro. Buonasera. Ecco, proprio colpa di Senaldi io mi occuperò di due temi, perché la prima pagina di Libero oggi, e poi ce la spiega bene Senaldi, parla di immigrazione, a chi sbarca 3.000 euro, soldi i migranti per farli venire qui, che io metto assieme a un'altra notizia, cioè questa storia che nel piano raggi per aiutare i Rom ad integrarsi, arrivano anche i mental coach dentro i campi Rom. Sono delle persone che insegneranno, proprio vero, eh, non è fantascienza. Sono persone che insegneranno i Rom a non rubare, come integrarsi e tutto. Buona fortuna. Intanto vedo collegato da Roma anche il senatore della Lega Nord, Stefano Candiani, che saluto velocemente, anche perché ci collegheremo meglio dopo. Fatemelo solo vedere che c'è, c'è e tra poco si collega con noi. Di che ci occuperemo stasera? Di immigrazione, ve l'ho detto, di italiani che non arrivano alla fine del mese e si devono mettere in fila, la rubrica di Vittorio Feltri, Feltri preso a parole, e poi uno speciale, perché ieri sera in un ridente paesino della Brianza, che è Lazzate, la gente è scesa in piazza, perché vogliono piazzare, in questo angolo di Svizzera che sta nella Brianza, dove tutti lasciano la porta aperta, vogliono piazzare i primi profughi e quindi è venuta una mezza baraonda. Ma tutto questo ed altro dopo la sigla. Eccoci qua, 3.000 euro a chi sbarca in Italia, me lo chiedo, ma mi sembra rispondere a sta domanda, la prima pagina di Libero, che con certezza titola A chi sbarca 3.000 euro? Vediamolo assieme, soldi ai migranti per farli venire qui, il nuovo piano del Viminale per fronteggiare l'invasione dall'Africa, un suicidio economico e un incentivo a partire. Basta arrivare in Italia e fare domanda di rimpatrio per ottenere denaro, beni materiali e aiuti a diventare imprenditori. Ma Senaldi, sei tu che esageri o è il governo che ha perso la brocca? Quale delle due? Noi abbiamo ripreso questa notizia commentandola e approfondendola da una notizia del messaggero, quindi noi non è che ci siamo inventati nulla. Ti do una notizia, mi ha chiamato il Ministro Minniti e domani potrete leggere tutti il mio colloquio con il Ministro Minniti su Libero, specificando che questi sono dei rimpatri che si sono veramente verificati, insomma gente che è arrivata qui, al quale noi abbiamo dato un argent de poche, che abbiamo rimpatriato le nostre spese e stiamo adesso aiutando a reinserirsi nel posto da dove arrivano. Non ha escluso che questo potrà riaccadere, però ci ha tenuto a precisare dicendo guardate che questa non è la mia linea e la soluzione che io penso di dare al problema immigrazione, questi sono dei rimpatri che sono avvenuti e non ha escluso che riavverranno. Dopodiché mi ha fatto tutto un discorso molto articolato, il cui senso è, signori qui ormai la frontiera dell'Europa non è più l'Italia ma è il deserto libico e la Libia del Sud. Gli immigrati vanno fermati direttamente in Libia e io sto facendo di tutto incontrando i sindaci locali per farlo. Mi ha anche confessato che l'impresa ha dell'impossibile perché il flusso è enorme e mi ha anche detto che se l'Italia è lasciata da sola di fronte a gestire questo fenomeno epocale non c'è nessuna speranza di venirne a capo. Quello che ho capito dal colloquio è che lui assolutamente è contrario alla politica dell'accoglienza indiscriminata che sta facendo la sinistra, che sta facendo anche la sinistra milanese. Lui lo ritiene una sciagura perché ritiene che gli immigrati e i migranti, insomma che va sviluppato lavoro, mercato, domanda e offerta in Africa perché noi non è che possiamo farci molto, non possiamo farci carico di decine di milioni di immigrati. Leggeremo domani questo colloquio con il Ministro Miniti sul Libero. Un ultimo commento che poi ti lascio andare a finire appunto di limare le ultime cose al giornale in questa lunga serata è la storia dei mental coach per far lavorare i Rom, che è vera perché comunque è previsto dal piano raggi l'inserimento dentro ai campi in attesa che vengano smantellati chissà quando di una figura di sostegno psicologico, non lo so, di educazione, non lo so. Un commento rapidissimo Pietro. Io credo che i mental coach li abbia bisogno la raggi innanzitutto perché mi sembra un sindaco alla deriva. Roma è una città afflitta da piaghe bribliche, i topi, i cinghiali, poi gli incendi, adesso la siccità, i grillini, gli stessi Rom. Insomma io credo che il mental coach dovrebbe usarlo la raggi e se già lo sta usando mi raccomando che non mandi questo ai Rom perché non è tanto bravo quello che sta usando. Grazie Pietro Senaldi, direttore responsabile di Libero. Noi andiamo avanti con il nostro dibattito. Mariani, i soldi per i rimpatri è una notizia, è chiaro che non riceve 3.000 euro ciascuno di quelli che arriva qui, però che messaggio passa? Educativo o diseducativo? No, passa un messaggio che la politica non sta facendo proprio nulla per cominciare almeno a dire siamo in troppi, non possiamo più accoglierli tutti, non sappiamo chi accogliere nel senso che diamo delle illusioni anche a chi viene che non merita perché a questo punto qui saranno tutte delle persone che vagheranno per l'Italia in un modo e quindi faranno delle cose che io non lo voglio dire, non lo voglio alimentare ma quando una persona è disperata a un certo punto non credo che sia una persona mite, diventa anche una persona molto arrabbiata e molto incazzata con tutti e questo non è e non mi aspetto da questa seconda repubblica come qualcuno l'ha così tanta decantata, una seconda repubblica che ormai sta diventando veramente facqua da tutte le parti, persone che cercano di tappare un buco ma ci sono di quelle falle ormai che effettivamente nessuno potrà se non una decadenza completa di questa Italia e questa mi dispiace perché alla fine non troveranno lavoro i giovani, non troveranno lavoro chi effettivamente cerca lavoro e quindi la povertà continuerà sempre di più. Allora, sorte, se un ministro come Minniti che ha tante cose da fare chiama un quotidiano che dice, che dà questo tipo di notizia che abbiamo visto, la famosa notizia dei 3.000 euro, insomma suona un campanello d'allarme, la sinistra è preoccupata per la gestione sua del tema immigrazione, un tema che sta spostando molti voti dall'altra parte, dalla vostra, da quella della Lega. La cosa più drammatica nelle ultime ore, che suona da beffa rispetto veramente a quello che l'Italia e gli italiani stanno subendo, è il presidente francese Macron che incontra le autorità libiche, che stringe con loro tutti gli accordi legati non solo alla sicurezza ma anche all'economia, quante aziende italiane lavorano direttamente o direttamente hanno business lì, tantissime, e quindi cornuti e mazziati, questo purtroppo è la sintesi di un governo che non ha l'autorità per fare niente. Ma signori, Macron è stato eletto due mesi fa e in una settimana ha fatto quello che non è riuscito a fare il nostro governo. Noi non sappiamo neanche che legge elettorale ci sarà al prossimo voto, che sarà tra sei mesi, e abbiamo i nostri partner europei che hanno legittimati da un forte voto popolare che fanno quello che non siamo riusciti a fare in un anno noi. Questo è drammatico perché non è vero che è una sfida impossibile, non è vero che è impossibile fare degli accordi, cercare di contenere questi sbarchi, ma sicuramente non è possibile per un governo lo sbando come questo. Allora, senatore Candiani, volevo sentire anche la sua, buonasera, adesso il collegamento dovrebbe funzionare. Queste notizie che non è che i giornali si inventano, magari esasperano, ripeto, i 3.000 euro, ridatemelo, per far venire qui i migranti, oppure, ridatemi anche questo, i mental coach per i Rom, insomma, danno il segnale di un paese un po' così. Prego. Sì, danno il segnale di un paese che ha perso nella politica la capacità di gestire i problemi, perché ormai adesso tutto quello che andava detto sull'immigrazione è stato detto. Noi sono anni che diciamo e mettiamo in guardia. È evidente che dall'altra parte o gli interventi sono tardivi o addirittura sono beffardi, perché quello di promettere soldi per i rimpatri significa, come è già stato correttamente anche indicato, dare un incentivo a chi dall'altra parte si imbarca, viene sfruttato dagli scafisti e viene portato da questa parte del Mediterraneo. Dopodiché ci sono in mezzo le ONG, da questa parte ci sono le pseudo associazioni caritatevoli che ci fanno fatturato per milioni e milioni di euro sopra e questa gente che viene utilizzata come pacchi guadagno spostati da una parte all'altra semplicemente per fare lucro. Alle spalle nel caso specifico degli italiani che nel frattempo, ricordiamolo, bilancio dello Stato alla mano, sborsano 5 miliardi di euro ogni anno per gestire questo sistema di immigrazione clandestina. Detto questo, la questione è molto semplice, qui stiamo al tracollo, perché o si dice chiaro e tondo che di qui può venire solo chi proviene da zone di guerra e non si consentono nemmeno gli imbarchi fermandoli già sulla costa libica, oppure è evidente che il sistema messo in atto dal governo, a cui si aggiungono delle aggravanti, perché penso allo Iusoli che siamo riusciti a bloccare e a far spostare in là nel tempo, ma che quest'autunno il governo ritornerà alla carica e all'assalto, sono tutte cose che danno l'idea proprio di un paese che non sa più difendere la propria gente. Qui o si dice di no e si chiudono le frontiere in maniera seria, oppure finisce che noi rimaniamo isolati dal resto d'Europa, perché nel frattempo, come è giusto che sia, gli austriaci fanno il proprio interesse, gli svizzeri fanno il proprio interesse, i francesi fanno tre volte proprio gli interessi e i tedeschi lo stesso. Ricordiamolo che tutto quello che è accaduto in Libia è stato generato dalla Francia, è stato generato dalla Gran Bretagna, è stato generato dalle scelte sbagliate degli Stati Uniti e adesso che stanno ovviamente mettendosi al tavolo lo fanno ancora i francesi con un governo italiano che sta alla finestra a guardare anche un po' scocciato, ma passando proprio come il coglione di turno che nulla conta. Questa non è una situazione di cui essere soddisfatti, ma proprio arrabbiati e arrabbiati. Ha detto bene, il coglione di turno ci sta bene come definizione, anche se qualcuno penserà che è poco elegante, però rende bene l'idea. Allora, Rota, tocca a lei... Guarda, Poletti, te lo dico sinceramente, io mi sono stufato di sentire parole addolcite per descrivere una realtà che dolce non è. O si chiamano le cose con il loro problema oppure continuiamo a mascherare con un perbenismo una realtà che invece deve essere affrontata con la massima severità e durezza. Ecco, però poi arriva la Boldrini, che adesso ho capito cosa serve a censurare le parole... ...ma pace all'anima sua. No, mica ancora è morta, si figuri. Nel senso, politicamente, c'è ancora qualche... Politicamente, per quanto mi riguarda, è sepolta. Eh, però continua ad agire, eh. La Boldrini, finalmente ho capito che lavoro fa, stabilisce quale termini si possono usare e quali no, e dà lezioni un po' a tutti. Però, aspetto le... Non addolciamo nulla, però vorrei anche un po' ricordare che anche il governo italiano... Allora, sto ricordo, sto ricordo me lo fa subito dopo un attimo di pubblicità, perché lei è molto buono, molto tollerante, e allora, guardi, non la tengo qua certo per arredo, c'ho già la bara alle sue spalle, che ricorda agli italiani che quelli del governo, i pensionati, i lavoratori li vogliono lì dentro la bara, eccolo lì, c'è la testa di Mariani davanti alla bara, ma non vuol dire niente, perché davanti ci sta il buon Rota che parla dopo la pubblicità. Mariani, ti ho augurato lunga vita, porta bene, a tra poco. Per parlare di immigrazione, ne parleremo a più riprese nelle varie parti della puntata, questa sera siamo partiti da due articoli, questo di Libero in prima pagina oggi, a chi sbarca 3.000 euro, poi ci ha chiarito meglio il direttore Senaldi, e la storia del Movimento 5 Stelle che vuol mettere in mental coach per insegnare ai Rom che non si ruba, saluto, ci ha raggiunti adesso Augusto Schiepati del Partito Democratico, buonasera, che mi chiedeva se stessimo parlando bene del governo, in effetti sì, con queste novità. No, così pensavo un regalo di fine anno prima di andare in vacanza, una trasmissione pro-governativa. Sì, la posso fare, ma durerebbe un paio di minuti, poi per il resto sono solo... Del resto chi governa deve fare i conti con questo, chiaramente la gente è arrabbiata, poi chi governa magari con l'inganno, con le slide, o non essendo stato eletto, ancora di più. No, oggi c'è Gentiloni, quindi... No, no, dico, faccio un esempio. Gentiloni è stato eletto. Però dovevo la parola a Rota dell'Italia dei Valori, prego. Lungi da me voler addolcire un tema serio e drammatico come quello dell'immigrazione, però non vorrei neanche cadere nell'ipocrisia che aleggia sempre quando si parla della Libia, della rottura dell'argine e quindi di questo flusso migratorio che arriva. Si parlava prima dei fatti e ci sono le chiacchiere, ci sono i fatti, gli atti e i comportamenti. Nel 2010 c'è un governo di centrodestra con Berlusconi, mi spiace ricordarlo a sorte, io ho votato come Italia dei Valori no al bombardamento in Libia, andare a fianco di quei paesi che si diceva anche candiani, Francia, Stati Uniti, Bretagna, quel governo ha votato di sì e noi abbiamo bombardando Gheddafi rotto quell'argine dove fino a quel momento morivano nel deserto libico, ma tanto non ne parlava nessuno e quindi avevamo tutti la coscienza a posto, si è rotto quell'argine ed è chiaro che hanno cominciato ad arrivare, solo per una ricostruzione dei fatti, perché altrimenti è sempre l'ultimo che arriva, che ha la responsabilità di quello che è successo prima. Mi piace aver colto però, visto che stiamo parlando di un ministro, Minniti, che per preparazione, competenza e equilibrio mi sembra che stia dimostrando di voler risolvere le cose e dall'altra parte di un articolo, titolo del messaggero, ripreso da Libero che c'è stato. Però i rimpatri a 3.000 euro ci sono, perché diamo dei soldi a della gente, lo fa il sindacato, diamo dei soldi a della... La mia posizione e la posizione di Italia dei Valori, che è per una posizione che deve essere per un rispetto dell'essere umano, è pro-integrazione, che questo non vuol dire però che dobbiamo cancellare la cultura nostra, le regole nostre, eccetera, eccetera, e dall'altra parte questa operazione che c'è da parte di molti esponenti politici di quello di risolvere la questione con degli slogan e con delle prese di posizione. Io per esempio mi indigno quando sento parlare che ci sono, ma sono titoli di giornale, perché l'ha confermato il direttore di Libero, è un titolo di giornale, non è un provvedimento del Governo, una strutturale stanziamento di fondi per il rimpatrio o per altre cose. Candiani, Candiani, è così, si indigna, è colpa dei giornalisti. No, schiepati, non schiepati il... No, i giornalisti hanno una... In questo caso i giornalisti a cui si riferisce sono quelli scomodi che raccontano ovviamente una versione che non è quella del Governo, perché quello che sta raccontando Libero è purtroppo quello che negli atti parlamentari ormai viene raccontato da parecchio tempo. Il direttore di Libero ha detto un'altra cosa, Candiani, scusami, 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 ma io ascoltavo come hai ascoltato tu il direttore e mi sembra che abbia detto un'altra cosa, non ha detto che è un provvedimento del Governo, ha detto che è un titolo del massaggero. Ho capito, però Illa, se lo fa il sindacato... No, 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 attenzione, attenzione, no, allora, guarda, questo ve lo dico io, forse non ne sei conoscenza, però le trattative che stanno facendo proprio in queste ore, sia a livello di Unione Europea, sia a livello di Governo italiano, sono proprio quelle dei rimpatri assistiti. I rimpatri assistiti sono forniti di una provvista economica, che poi siano 3.000 o 2.900 euro, la situazione che non cambia è quella che si dà un messaggio che chi viene in Italia e poi viene rispedito al proprio Paese con dei soldi in tasca. E questa è una cosa drammatica. Io non voglio dirlo, ma nel momento in cui un Paese inizia a pagare per tenere tranquille le proprie frontiere, è un Paese destinato a soccombere, perché o si difende per principio le proprie frontiere, oppure, dall'altra parte, si pagano i mercenari. Un attimo, cosa non va? Schiepati! Ma come sta chiedendo queste ore? Visto che sei della Lega e probabilmente vieni tra le valli, ma i 1.500 chilometri di coste, quanto costa questo Paese difenderli? No, perché quando diciamo delle cose... Caro amico, allora con tuo concetto devo far passare l'idea che questo è un Paese che non è più in grado di difendere il proprio confine, perché se non siamo in grado di controllare le coste rispetto ai bomboni, allora mi dico che cosa possiamo fare se il Paese viene nel 60 attacco da qualsiasi terrorista esterno. Non facciamo demagogia, che voi avete sempre fatto. Voglio dire, affrontiamo le cose seriamente, perché se dobbiamo farlo per slogan, va bene, usiamo la ruspa, facciamo così... La situazione così com'è è seria, quello che c'è fuori dalla stazione centrale di Milano è serio? Sì, ma io stavo dire infatti in un po' io non penso. Quello che sta accadendo a Manfredonia, a Reggio Calabria o a Caserta è serio? È la gestione migranti seria, quella di cui deve andare orgoglioso il PD? Voi avete riempito il Paese di sfaccendati che nulla hanno a che fare con i profughi di guerra. Semplicemente sono qui per ingrassare le cooperative. Non facciamo una gara che diventa fare una competizione a perdere. Ma tu lo sai quali sono i numeri dell'immigrazione? Sì, li sappiamo tutti quali sono i numeri dell'immigrazione. Quanti sono i siriani arrivati questa settimana? E quei numeri non sarebbero stati schimati? Quanti sono i siriani arrivati questo mese? Quei numeri non sarebbero stati diversi con voi al governo. Non lo sono stati quando avete governato. Quanti sono i siriani arrivati questo mese? Perché è un flusso che non puoi formare. Se non sei zitto, pensi di bombardare le navi? Rispondimi, pensi di bombardare le navi che arrivano? Quanti sono i profughi di guerra che sono stati riconosciuti questa mese? Ti dai la soluzione per fermare i diarrivi? Allora te lo dico io, visto che non lo sai perché non rispondi. Meno del 6%, ogni 100 persone sono meno di 6. Le navi che arrivano? Mi spieghi come fai a fermare le navi che arrivano? Non li imbarchi! Non li imbarchi! Non li imbarchi! Gli spari, gli bombardi, a fondo i gomoni. Gli voglio sapere come fai a fermare i diarrivi. Io metto le navi a difesa nel proprio confine e non li lascio partire. Come fai a non farci partire che non puoi entrare nelle acque territoriali di un altro paese? Cazzo, sei anche parlamentare, diritto internazionale. Se l'avranno dato un libricino per fare il parlamentare, diritto internazionale. Ma vai via te, violante, non puoi entrare nelle acque della Libia. Ma non sei lì che stai parlando. Violante, c'è una dichiarazione di guerra. Poletti, vorrei fare però un ragionamento senza essere interrotto. Poche ore fa, al Ministero degli Interni, c'è stata una riunione tra le ONG e la struttura del Ministro degli Interni, nel caso specifico il Prefetto Morcone. La notizia di qualche ora fa è che le ONG hanno rifiutato il codice di condotta proposta dal Ministero degli Interni, che prevedeva, tra le altre cose, una sola specifica richiesta che a bordo delle ONG ci sia un ufficiale di Polizia Giudiziaria, ci sia la Polizia, per controllare quello che è il rapporto tra le ONG e gli scafisti. L'hanno rifiutato. Allora, un Paese serio, rispetto a una situazione simile, non lascia poi sbarcare queste navi, perché è evidente che se non vogliono la Polizia a bordo è perché questi hanno rapporti privilegiati con gli scafisti. È cosa ormai assodata, inserita nelle indagini, che è entrata anche negli atti parlamentari, che quando a fare i soccorsi sono le ONG, gli scafisti poi prendono la barca, prendono gli strumenti anche di controllo di comunicazione e se ne ritornano in Libia. Cioè, cosa vuol dire? Che hanno instaurato un meccanismo di traffico di esseri umani. internazionale. Allora, ogni fronte a queste cose si dice no. Siamo tutti d'accordo, ma esistono diritti. Ma quale diritto internazionale? Questi non sono, non sono naufraghi. Io capisco che in Italia ormai c'è l'abitudine dove faccio una legge e poi mi arriva il sindaco leghista che si rifiuti ad applicarla. Ma ci sono delle leggi internazionali. Allora, o si sceglie di non rispettare le leggi, ma a questo punto non rispettiamo più nulla. No, mi trovo un sindaco leghista che fanno niente e io mi dico, ognuno si comporta come vuole. Perché voi state producendo l'invasione di un paese, non si rispettano le leggi. Scusate, fermatevi un attimo, Mariani, lei che ha... Ma non ci sono leggi che impediscono al paese di difendersi. Hai una responsabilità istituzionale, sei un parlamentare, non si difendono. Mariani, ci aspetta un attimo, fermi tu, senatore, fermo. Perché questo è naufraghi che fa una bandiera straniera, senatore, fermo. Lei anche, Mariani, ci aspettano lunghi mesi di queste discussioni, dove portano? Beh, certamente queste discussioni così profonde, tra virgolette, non voglio togliere niente a nessuno, però non sono discussioni profonde, ma sembrano essere discussioni da grande bar, ma che alla fine non portano a nulla, se non a rinfacciarsi ognuno le... Aspetta, aspetta che c'è il senatore che non è d'accordo. La persona non li conosci. Eh? Prego? No, senatore, senatore, senatore... O si conoscono i numeri, oppure non si parla. Ma allora... Perché qui stiamo parlando di 94% di stranieri che non hanno provenienza da 6 di guerra. Ma sì, ma allora, il problema... Cioè non possiamo caricarci tutti disperati a meno. Senatore, senatore, se continuiamo a lanciarci la palla, sappiamo che questo è un gravissimo problema. È un gravissimo problema che purtroppo avremo in giro per le strade persone che le abbiamo dato una falsa illusione. E la falsa illusione, le sa meglio di me, quando una persona è disperata, cosa combina e cosa potrà combinare. Lo sappiamo tutti questa cosa. Sappiamo anche che dal primo gennaio adesso sono aumentati gli sbarchi. Lo sappiamo. Però il problema è grave, gravissimo. Ma andiamo un attimino a capire per quale motivo sta succedendo questo. Perché si vuole la destabilizzazione dell'Italia sotto il profilo industriale? Perché prima Macron, giustamente, come ha detto qualcuno, ci ha chiuso la porta in faccia. I cugini francesi ci hanno chiuso. Ecco, analizziamo bene queste cose. Va bene, torniamo dopo la pubblicità, ripartiamo da sorte. Grazie. A proposito, lei sa cos'è, ridatemi l'articolo, un mental coach? Uno che avrà un alto fatturato nella vita con tutti questi grillini e piddini in giro per l'Italia. Battute a parte, siamo passati dalla sinistra che attaccava violentemente Berlusconi per essere troppo amico di Gheddafi a qualche anno dopo dove la stessa sinistra o centro-sinistra o qualche partito collegato ci viene a spiegare che Gheddafi ancora ancora l'ha rovesciato Berlusconi. Chiaro che lì, chiaro che lì, ti ho interrotto. No, ho capito, però se stai dicendo, allora, è vero o non è vero che avete col governo Berlusconi messo in votazione di bombardare Gheddafi e voi avete votato di sì e io no? I cittadini che non sono degli imbecilli avranno buona memoria nell'atteggiamento. Che è come dico io, soprattutto per le vergine, si ricordano. Certo, siamo passati dalla sinistra indignata per la tenda di Gheddafi a Roma alla sinistra che ha fatto diventare l'Italia tendopoli con migliaia di migranti qui in giro a far cosa non si sa, anzi, purtroppo lo sappiamo bene. Mentre l'esponente del Partito Democratico dice al senatore della Lega ci sono i trattati internazionali, ci sono i protocolli. In questo momento, in questo momento, i francesi chiudono tutti gli accordi commerciali che possono chiudere in Libia. In questo momento i francesi, forti di un governo autorevole, si fanno, qualcuno ha detto, gli affari propri anche in un modo un pochino più rustico. Però oggi il nostro livello di accoglienza, il nostro livello di intolleranza anche per via della crisi economica che colpisce il nostro Paese è chiaro che ha raggiunto il limite, lo dicevamo anche fuori onda, si può dire che lo dicevamo anche fuori onda. Cioè, qualsiasi persona di buon senso si rende perfettamente conto che questo governo non sta facendo anche il poco che gli compete. Anzi, siamo arrivati dagli 80 euro di Renzi al buoni incentivi per sbarcare perché se tu gli dai 3.000 euro per tornare indietro... No, non c'è buoni incentivi. Ha ragione. Se ascoltavi, anche Candiani ha detto che si stanno trovando per discutere questi temi. Ha ragione. Il titolo del messaggero è un peggio di un minuto. Però scusami, il Veneto e il Friuli hanno già fatto... No, non raccontiamo male però. Il Veneto e il Friuli hanno già fatto esperimenti in cui a centinaia di profughi hanno dato questa somma o somme più alte per tornare a casa. Sai che messaggio è passato? Due amministrazioni... Che ha chiamato al Paese loro e ha detto venite qui che danno i soldi per tornare. Quindi... L'amministrazione ha quindi a centrodestra il Veneto, per così è chiaro. Io voglio dire... No, allora scusami, fermati un attimo. Allora, in Friuli c'è la Serracchiani che non è centrodestra e in Veneto c'è Zaia. E l'ha dati la CGL partecipando a un mando europeo. La CGL non è il centrodestra, è il sindacato. Ti ringrazio per la precisazione ma penso che a casa nessuno gli sia passato per la testa. No, però siccome l'ospite del PD... Che un governatore di Forza Italia lega gli gira una roba del genere. L'ospite del PD dice... Sta roba qui si vede che non è una roba nostra. Però detto questo, oggi la domanda che dobbiamo porci è ma vi sembra normale la situazione che stiamo vivendo... Parliamo di Milano, parliamo anche della Lombardia. Un'invasione. Ma sapete che c'è allora un'aggressione sui treni del Lombardi? Un'aggressione allora? Allora! Di questa gente qui? Ma stiamo scherzando? Siamo qui a dirci ci sono i trattati internazionali. Ma l'Italia ormai è percepita come un paese dove è la sala d'aspetto dell'immigrazione clandestina. Tutto può succedere. In Italia va bene tutto. Noi abbiamo chiesto l'esercito, nelle stazioni, nelle stazioni abbiamo... No, sui treni no, perché non possono. Nelle stazioni abbiamo chiesto l'esercito. Sradichiamo il concetto che qui si possa fare quello che si ha voglia. E invece passa proprio questo concetto qui. Prego. No. Cos'è che non va? Nella ricostruzione che ha fatto sorte che... Allora. Cioè l'altro giorno i sindacati delle persone che lavorano sui treni, dei dipendenti di Trenord, hanno proclamato uno sciopero che è uno sciopero che io ho capito per la sicurezza del personale. I sindacati non sono necessariamente vicini all'area politica di sorte. Tutelano i diritti dei lavoratori che hanno paura di andare al lavoro perché vengono massacrati dal primo personaggio che si permette di salire sui treni ed aggredire loro e gli altri viaggiatori. Siamo, credo, tutti d'accordo. Lo dicevamo prima fuori onda che l'immigrazione ha raggiunto un punto di rottura e l'Italia non è più in grado, visto anche, come dire, l'assenza dell'Europa di poter continuare ad essere l'unico popolo che accoglie. E che non vuol dire che li si possono fermare prima perché non ci sono le condizioni. Chi dice che li si possono fermare prima oggi nelle condizioni date o affonda i barconi o no, non ci sono alternative. Quindi non possiamo essere quelli che accolgono tutto. Evidentemente c'è già una condizione di tensione sociale che deve essere gestita. Si sta discutendo con l'Unione Europea come facilitare e finanziare attraverso la comunità europea i rimpatri. Sì, ma sono sempre soldi dei cittadini. Girono i coglioni a quelli che non arrivano a fine mese. Il governo Minniti ha introdotto una serie di leggi tra cui ha semplificato la parte processuale riducendola a un solo cosa per poter facilitare il rimpatrio di queste persone nei loro paesi. Però vorrei anche, una volta che abbiamo ammesso che il problema è serio, che deve essere affrontato, che lo stiamo facendo, che non è di facile soluzione perché abbiamo 2000 km di coste, perché abbiamo, insomma, per tutti questi problemi vorrei anche che la smettessimo però di parlare alla pace, di fare demagogia. Allora, non so... No, fammi finire, perché quando si dice che ogni mezz'ora, ogni 25 minuti c'è una cosa sul treno, la mia risposta è... La cosa di aggressione. Di aggressione sul treno, intanto vorrebbe dire che su tutti i treni avremo una cosa come 2.500 aggressioni al giorno. E quindi sì, va bene, quindi 250.000 all'anno. Ma ci vai in treno? Ma lo sai cosa vuol dire andare in treno? Vorrei ricordare che Maroni aveva promesso davanti alla televisione, che sarebbero state le guardie di sicurezza sui treni. Non ci sono, perché io i treni li prendo e non ne ho mai trovato uno. Ma dove sono? Ma dove sono? Allora io ti dico, ripartite da questo anche col senatore Candiani, subito dopo la pubblicità che è un ritardo da recuperare. Dai, pubblicità. Do la parola a Candiani, al senatore Candiani, ricordando a tutti gli ospiti che ho sei minuti perché poi devo passare all'argomento successivo. Prego, senatore. Beh, ci staremo nel tempo. Allora, all'interrogutore del PD faccio notare una cosa molto semplice, che è questione solo di volontà politica quella di fermare gli sbarchi. E come dico, non bisogna neanche parlare di fermare gli sbarchi, ma di fermare gli imbarchi. Prima di tutto perché si può fare un accordo con la Libia e se non ne ha notizia proprio questa mattina, finalmente dando seguito a quegli impegni che abbiamo chiesto più volte, più riprese con le mozioni in Parlamento, il Presidente Gentiloni, nell'incontrare il Presidente Serrai, meglio, l'interlocutore libico perché poi anche lì c'è da capire chi è andato in Francia e cosa rappresentava, ha scritto una cosa molto semplice, ha fatto un'agenzia dove ha dichiarato che c'è un'intesa con la Libia per cui nei prossimi giorni ci potranno essere finalmente pattugliamenti congiunti delle motoverette italiane in acqua territoriale libica con i libici a uno scopo preciso, quello di non fare partire gli imbarchi. Allora, se si parte da questi ragionamenti si ottiene qualche cosa, se non si parte da questo ragionamento non c'è soluzione, non è allargando la dimensione del secchio che si mette sul corretto da cui entra l'acqua. Quindi il senatore, grazie a tutti. Vuoi dire che entri l'acqua dal tetto. Mariani, non è questione... Buoni Mariani. Senatore, è una cosa molto utile quello che ha detto, così finalmente qualcosa di serio si sta facendo. Questo fa piacere, poi che anche l'opposizione, un'opposizione abbia contribuito, fa piacere. Il problema, lei lo sa meglio di me, che non dobbiamo nasconderci, quali interessi ha l'ENI in Libia? E allora per quale motivo tutte queste barche qui, quelle che ci costano, barche dell'ONG, barche della Marina Militare, ma cosa ci costa lo Stato questa cosa? E allora per quale motivo l'opposizione non fa un bellissimo accordo con la maggioranza, tutti insieme, questa Europa che non funziona completamente e veramente risolviamo questo problema? Basterebbe poco per risolverlo, come ha detto lei in questo momento. Guardi che lei non è al corrente, ma queste cose, queste cose, no no no, però non mi si può mettere, non permetto a nessuno di mettere in bocca cose che non sono vere. Perché se non è al corrente, se non è al corrente, le emozioni fatte e le proposte avanzate da noi come opposizione sono tutte in questa direzione. Che poi ci arrivino adesso, va bene. I sei minuti sono quasi passati. A me quando una cosa è giusta, indipendentemente che la faccia la Lega, il PD, Forza Italia e 5 Stelle, è giusta, appunto. Poi ci sono i tempi e ci sono i ruoli. Io raccolgo con grande piacere quello che Cagliani sta dicendo, che l'avevo già letto e mi ero già informato su questo, che il Presidente del Consiglio Gentiloni sta facendo una cosa giusta cercando di concretizzare quegli accordi bilaterali senza i quali non si può fare nulla. Quindi benvenga un accordo con la Libia, benvenga il fatto di aiutarli un giorno a casa loro. Allora c'era sorte che doveva rispondere sui treni, se no non ci sto più. Volevo solamente dire all'esponente del Partito Democratico che la sicurezza è una competenza nazionale. Quindi noi come Regione Lombardia chiediamo le competenze sulla sicurezza. Poi te lo facciamo vedere noi che in una settimana ripuliamo tutti i treni. e noi abbiamo fatto un provvedimento in più perché siamo l'unica Regione in Italia che ha introdotto anche la figura della Guardia giurata armata. Ma siamo davanti a una tale... Scusi, assessore, ma direi ripuliamo tutti i treni in dieci minuti, basta che ci saranno... No 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 no, se la sicurezza fosse una competenza della regione lombardina, noi siamo un'eccellenza nella sanità, scommettete che saremo anche un'eccellenza nella sicurezza, voi state confondendo una competenza vostra del vostro governo che ha permesso un'invasione e venite qua a dirci che sui treni lombardi ci sono le persone. Io ho un ricordo di Maroni, Maroni che è andato in televisione e Maroni ci ha raccontato, Maroni è andato in televisione, no noi in Regione non governiamo purtroppo da 30 anni, Maroni è andato in televisione dicendo, Maroni è andato in televisione dicendo garantiremo la sicurezza sui treni. E noi abbiamo introdotto facendo l'unico provvedimento, l'unica regione, l'unica regione in Lombardia, sentiamo i pendolari come stanno, ma tu non puoi scaricare quello che non fa il tuo governo sulla regione Lombardia, tu non puoi scaricare quello che il tuo governo non fa. Quando è finito, vorrei fare una considerazione di merito, una considerazione di merito, senatore in una battuta, ho 10 secondi in una battuta. Sì, è importante anche, rimettiamo però anche le guardie al loro posto e i ladri al loro posto, perché bisogna ricordare purtroppo che i poteri che ha anche la polizia di intervenire non sono differenti rispetto a quelli del capotreno. Ricordo che il capotreno è riconosciuto come ufficiale di pubblica sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. Il problema è che con un sistema come il nostro, che purtroppo è perbenista, se il capotreno o anche lo stesso poliziotto impartisce un ordine, chi sta dall'altra parte si rifiuta di ottemperare a quest'ordine, non può neppure intervenire con l'arresto. Per di più, purtroppo, anche con l'introduzione di alcune forme come quella del reatto di tortura, addirittura gli agenti di polizia rischiano di essere poi loro incriminati se prendono il tizio. Grazie al senatore Candiani della Lega Nord, devo chiudere perché devo passare ad altro e poi tra l'altro, passando per Feltri, devo andare anche a Lazzate, dove questo governo minaccia di mandare i profughi. Grazie al senatore Candiani, grazie, non la vedo convinto. No, no, convintissimo. Eh certo, li volete mandare a Lazzate, volete mandare i profughi anche a Lazzate. Per fortuna vanno in macchina e non sono costretto a prendere i treni per muovermi, se no, arrivavo qua due giorni dopo. Vengono portati qui voi, gli migranti e adesso faccio per la prendenza. No, ma stiamo parlando in funzione dei treni che non vanno. Perché Lazzate non parlate, sì, parlate anche di immigrati, ma parlate anche di Andrangheda che hanno chiuso qualche bar in questi giorni. La polizia di Milano. Ma c'ha i suoi chiodi fissi e i suoi pallini, come giusto che sia. Quindi ringrazio, no, mi riferisco a Mariani, perché con Mariani discutiamo spesso anche delle infiltrazioni, di certe infiltrazioni che ci sono in Brianza. Ma è un altro tema che verrà avanti, più avanti, ecco, diciamo così, è fatto il giro di parole. Grazie a Schieppati del Partito Democratico. Grazie, grazie a te. Grazie a Tiziano Mariani, imprenditore. Grazie a voi. Grazie a Ivan Rota dell'Italia dei Valori. Buona serata. Grazie ad Alessandro Sorte di Forza Italia. Buona serata. Noi torniamo, restate lì, il tempo della pubblicità che torniamo. Quella è la certezza. A tra poco. Grazie a tutti.